Musica Importante giornata per la comunità di Lauria, sabato mattina 28 marzo, presso la sala consigliare, dibattito sul tema istituzione, regole e cittadini. Ne parla per un'anticipazione l'assessore alla cultura del comune di Lauria, Lucia Carlo Magno, ospite nei nostri studi. Sabato faremo questo evento che ritengo piuttosto importante, dal titolo istituzioni, cittadini, regole. Sono tre parole che vanno chiaramente approfondite dai tecnici, dove metterei una parola come collante, senso civico, che penso, insomma, il senso civico si potrebbe definire come la coscienza che il cittadino, quindi ognuno di noi, ha nei confronti dei propri doveri e quindi delle proprie responsabilità nei confronti della comunità. Il grado di senso civico dei singoli incide in maniera rilevante sulla qualità della vita dell'intera comunità, che si esplica chiaramente in tutti gli ambiti, in strada, sugli autobus, in fila, negli uffici, dovunque ci si trovi, perché il senso del rispetto di se stessi, degli altri e soprattutto del bene comune, inteso come tale, penso, innalzi molto il valore culturale dell'intera comunità. Ci saranno degli interventi molto importanti, quale quello della psicologa dei servizi socioassistenziali del comune di Lauria, la dottoressa Maria Teresa Logaldi, daremo spazio al dibattito perché io spero nella presenza di parte della comunità o comunque di tutti quei cittadini che sono interessati a questi tipi di convegno e poi avremo in sala la presenza dei ragazzi, le quarte dell'Istituto Professionale dell'ISIS Ruggero, la quale presenza ringrazio molto la disponibilità sia del dirigente poncitore che dei docenti che si sono resi disponibili ad accompagnare i ragazzi. Quindi si aprirà un minimo di dibattito, comunque ci saranno degli interventi dal pubblico e chiuderà la dottoressa Antonia Fiordalisi che è il difensore civico della regione Basilicata che molto benvolentieri ha raccolto l'invito dell'amministrazione e mi ha detto che sarà presente con estremo piacere e ci darà un po' di delucidazione proprio per quel che riguarda le norme civiche, il senso civico e il rispetto della cosa pubblica.